Linea ai colleghi di Rai Utilità per le informazioni sul traffico dopo la seconda parte del telegiornale. Buon pomeriggio e benvenuti al consueto aggiornamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Il sabato pomeriggio caratterizzato da viabilità fluida come si evince peraltro dalle immagini che monitoriamo dalla 4 all'altezza del chilometro 133, flussi veicolari vivaci e in area partenopea sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta si viaggia agevolmente. L'unica segnalazione di rilievo riguarda un incidente verificatosi sulla strada statale 56 Borgoforte tra San Michele e Campitello che sta creando disagi in entrambe le direzioni e questo incidente appunto al chilometro 58 ed è al momento il tratto è chiuso. Per quanto riguarda il resto della viabilità desidero informarvi che domani ci saranno possibili disagi alla viabilità per la 25esima Maratona Internazionale di Roma che vedrà il centro storico off limits per le auto e le deviazioni dei trasporti pubblici mettendo a dura prova il traffico. E peraltro sono anche chiuse le tre stazioni della metro A Spagna, Barberini e Repubblica e anche poi va ad aggiungersi anche quella della linea B Colosseo. Alla Maratona Internazionale sono attesi circa 10.000 partecipanti per un percorso che parte dal centro storico e interesserà i quartieri di Ostiense, San Paolo, Marconi, Testaccio, Lungotevere, Prati e Flaminio. Mi avvio verso la conclusione con le previsioni del tempo comunicateci dall'Aeronautica Militare che indicano per domani piogge al nord con nevicate al nord ovest, piovaschi al centro e al sud. E attenzione perché in questo momento sta piovendo sulla 5 Torino-Savona. E queste sono le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza, fate buon viaggio e vi aspetto domani. Arrivederci.